Affamata, spietata e sempre più prima, la recanatese non fa regali, anzi è lei a regalarsi un Natale da sogno. Sbaffo e Soci rifilano tre gol al temibile notaresco che è rimasto a bocca asciutta dinanzi allo strapotere dei locali. L'interpretazione della gara è stata magistrale. Dopo un primo tempo a tutta, dove la recanatese ha sbagliato il rigore e si è portata avanti con sbaffo, nella ripresa si è saputa gestire e colpire al momento giusto affossando ogni speranza di pareggio degli abruzzesi. Le assenze di Raparo e Giampaolo sono ben mascherate dalla grande prestazione collettiva del team di Pagliari che commenta così il successo a fine gara. Sì, sì, è una partita perfetta perché venivamo anche da una partita molto difficile domenica a Castelfidardo, i ragazzi sono stati stupendi come del resto in tutte queste partite, li devo solo ringraziare e dire di non abbassare la guardia perché adesso ci godiamo il Natale e poi ricomincia a gennaio un altro campionato. Però ripeto, partita perfetta, tre gol, rigore sbagliato, altre occasioni. Non penso che Caglius abbia fatto parate importanti e li devo ringraziare veramente, è un gruppo straordinario prima come uomini e poi come giocatori. Diciamo quasi come se le fatiche di domenica non c'erano però era più l'aspetto mentale questo perché il primo tempo avete attaccato, inizio ripresa, forse avete un po' subito però forse era per risparmiare qualche energia nel finale. Ma no, anche perché c'è l'altra parte una squadra secondo me molto forte, perciò voglio dire è normale che noi siamo diventati improvvisamente Barcellona, una squadra che ci ha messo in difficoltà però ripeto, in quei momenti lì come è stato Domenico Castelfidardo, ho visto il gruppo vero che sa soffrire insieme, che sa stringere i denti, che sa anche oltre a giocare anche a difendere tutti quanti insieme e questa è una delle tante note liete di questa squadra. Guardare questa classifica fino a gennaio che effetto fa? Io ho detto la classifica la guardo a marzo perché a gennaio fa piacere perché magari ti svegli questi giorni a Natale a casa e ti accorgi che stai facendo un discreto lavoro però ripeto per me le corse finiscono quando c'è l'arrivo, adesso neanche siamo arrivati al Giro di Boa, perciò è un buon inizio, dobbiamo poi anno nuovo, adesso godiamoci le vacanze, godiamoci Natale in famiglia, poi vedremo. Due parole invece su Ferretti, diciamo si è presentato bene Artubaldi? Sì ho fatto un discreto gol, sì sì sono contento, ma ripeto chi viene in questo gruppo è sempre, trova un gruppo di uomini che ti aiutano a inserirti, a lavorare, se uno è una persona seria come Daniele, ero convinto, come era convinto il direttore, che non aveva problemi, infatti ci hanno dato ragione. La cronaca dei primi 45 minuti è davvero ricca, con le squadre che non si sono affatto risparmiate e l'area canatese, come di consueto, fa la voce grossa. Infatti sono quasi tutte di tinta giallo-rossa le occasioni più ghiotte, con Senigallesi bravo a spaccare in più occasioni la difesa ospite. È proprio il biondo cavallo pazzo, dopo appena 4 minuti, a rendersi pericoloso, ma viene fermato con un atterramento in aria. L'arbitro non ravvisa nulla e si prosegue, tra levementi e proteste locali. Al settimo lo stesso Senigallesi impegna su punizione Shiba, che si rifugia in angolo dopo una deviazione di Maio. Dopo due minuti, palla a gol per Defendi sul suggerimento ancora di Senigallesi, ma il numero 9 spedisce la palla out. Bisogna attendere il 14esimo per vedere la prima vera occasione per il notaresco, che arriva da lontanissimo con Bellardinelli. La palla sibila il palo alla destra di Urbietis, che può solo guardare e sperare. Un minuto dopo, però, la recanatese si mordi gomiti per il rigore sbagliato da Senigallesi. È lui stesso a procurarselo. Pesce allarga il braccio e l'arbitro indica il dischetto. Questa volta sì, sbaffo consegna il pallone a Senigallesi, ma Shiba intuisce tutto e para. E' un assedio recanatese alla porta del notaresco. Al 18esimo, clamorosa doppia chance per i locali. Ci prova sbaffo, da lontano, ma para a Shiba. Sulla respinta, Senigallesi rimette in mezzo e tutto solo, Minicucci, forse cerca il gran gol in acrobazia, ma pecca di freddezza e calcia fuori debolmente. Si lotta a centrocampo, ma il ritmo non cala. È sempre la recanatese che costruisce il gioco e al 29esimo riesce a sbloccarla con il solito sbaffo. Serie di cross e controcross davanti la porta di Shiba. Poi c'è quello di Senigallesi, decisivo e preciso per la testa del Re Leone, che insacca e fa impazzire il Tubaldi. Al 33esimo ancora recanatese in avanti, ma questa volta defendi, da due passi dalla porta, spara alto. E questa l'ultima vera grande occasione del primo tempo. Più notaresco che recanatese ad inizio ripresa, ma c'è solo tanta intensità da parte abruzzese, con le occasioni che scarseggiano. Al 22esimo i rosso-blu ci provano con Valenti, ma il tiro è respinto dal difensore. Passano dieci minuti, la recanatese è cinica e chiude la partita con il raddoppio, ancora firmato sbaffo. Diagonale potente da fuori aria e palla all'angolino, imprendibile per Shiba. Al 38esimo si unisce alla festa giallorossa anche Ferretti, che si presenta alla grande davanti al suo nuovo pubblico, con un gran gol all'incrocio dei pali. E allora gli ultimi minuti sono solo di gestione per una vittoria che rende ancora più magico il Natale in casa recanatese. Nel post-gara sentiamo le impressioni del tecnico del notaresco Massimo Epifani. Ma in questo momento bisogna fare, l'avevo visti già, i complimenti a recanatese, perché veramente è in un momento di grazia, sta facendo benissimo. In questo ci permette che anche noi oggi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo facilitato le cose all'avecanatese. non abbiamo fatto una partita importante come la dovevamo fare, sono dispiaciuto molto di questo. Vuoi non vuoi, veniamo da, dico sempre le stesse cose, da un mese e mezzo terribile. Oggi anche la condizione ne eravamo al 100%, però se vogliamo fare qualcosa di importante bisogna cambiare marcia, specialmente nella testa perché poi la partita di oggi, ripeto, complimenti a loro che hanno fatto la grande gara, però ci sta molto di nostro e quindi se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo cercare di cambiare marcia perché poi i punti possibili ci sono, però bisogna cambiare, bisogna nella sosta lavorare tanto, con tantissima umiltà, testa bassa e ci ripresenteremo alla ripartenza cercando di fare molto meglio. Anche il mercato è importante, la rosa è importante, servirà a amalgamare il gruppo, ma cosa è mancato finora a questo notaresco? Ah no, fino adesso è mancato che purtroppo il 6 di novembre ci ha colpito il Covid e siamo stati fermi per molte settimane e poi quando siamo ripartiti abbiamo giocato ogni una volta ogni tre giorni, quindi quando tu fai partite di continuo, puoi solo fare rifinitura, scarico e rifinitura, quindi non abbiamo potuto mettere benzina nelle gambe, ma questo lo sapevo, non è una scusante ed è mancato questo, poi dobbiamo cambiare testa perché siamo già una squadra forte, abbiamo fatto un mercato importante, anche se quelli che sono arrivati sono arrivati una settimana fa, dieci giorni fa e anche loro si devono allenare. Adesso abbiamo la sosta, abbiamo preso questa botta oggi a Reganati e ci vuole soltanto umiltà a lavorare e cercare di ripresentarsi il 5 o il 6 di gennaio quando giocheremo il recupero facendo una grande gara e da lì costruire un grande giro di ritorno e sperare che le altre magari rallentino.